Questa mattina, presso la Fondazione e Comunità di Arco, è stata inaugurata la nuova lavanderia. Vediamo l'intervista al presidente dell'Aurentis. Abbiamo inaugurato oggi la nuova lavanderia e il nuovo guardaroba della casa di riposo di Arco. È un lavoro che serviva a fare, un lavoro da circa 70.000 euro, che ci ha permesso di dare più dignità alle sette persone che lavorano qui dentro. Fanno tutti i santi giorni, tranne la domenica, dalle sette alla mattina alle tredici e naturalmente quello che conta è l'assistenza che viene data sostanzialmente ai nostri ospiti. Oggi ne abbiamo 150, tutto il vestiario dei nostri ospiti è sistemato direttamente qui dentro, mentre invece per quello che attiene il personale, quindi le 178 persone che lavorano, qui dentro vengono poi lavati e messi a posto tutte le divise. Ecco, un lavoro che serviva, questa è una parte vecchia della casa, una parte che risale agli anni 80 ed è una delle tante che piano piano a rotazione stiamo mettendo a posto nell'ottica di trasformare quella che è volgarmente chiamata una casa di ricovero in quello che invece è realmente già oggi, cioè sostanzialmente una casa di accoglienza per i nostri anziani. In questo momento stiamo anche lavorando al giardino ai 6.000 metri esterni e stiamo rifacendo completamente il percorso in maniera tale che non ci siano problemi per le carrozzelle e per le persone che più fanno fatica a camminare. Qui a fianco c'è anche Casa Enel sulla quale stiamo facendo un progetto un progetto che poi deve vedere anche la condivisione del comune o la condivisione e o la condivisione della comunità di valle perché anche lì sono bellissimi 3-4.000 metri di giardino che si potrebbero integrare tranquillamente con il nostro e naturalmente fare della ex Casa Enel quello che è un centro logistico per noi quindi spostare gli uffici, mettere magari ambulatori medici o fare servizi per la comunità.